600 alunni provenienti da tutte le scuole primarie di Bitonto a partire dal lunedì 22 gennaio avranno l'opportunità di conoscere attraverso laboratori sul campo, giochi ed esperienze pratiche tra i verdi paesaggi di Masseria e Lama Balice tutto quello che il nostro territorio ha da offrire. Al via il progetto Impariamo a Mangiare Sano, 4 incontri in Masseria Didattica per educare i più piccoli all'importanza di mangiare frutta e verdura di stagione e cibi naturali. possibilmente locali per assimilare in modo equilibrato e corretto le sostanze di cui il nostro organismo ha bisogno. Parleremo dalla mia parte quello che è la cucina non solo del processo degli alimenti quindi dalla crescita alla raccolta a poi le varie cotture ma anche l'importanza di quello che è il riciclo su questo progetto. Dalle verdure possiamo creare salse, creme e dagli scarti non solo cibo ma anche come vedrete poi più in là dei prodotti alimentari, biologici che si usano sulla pelle come creme, saponi e quant'altro. Noi vogliamo dare questo impatto, questo messaggio a tutti i bambini che parteciperanno alle scuole in questo progetto perché è l'importanza di avere un'alimentazione non solo alimentare ma anche nella vita, avere un messaggio che è quello di rispettare qualsiasi ingrediente, qualsiasi rapporto con la natura. Promosso da Regione Puglia e Comune di Bitonto in collaborazione con Masseria Lama Balice il progetto prevede quattro incontri da gennaio ad aprile. Il primo, il 22 gennaio, sarà dedicato all'olio d'oliva, a febbraio sarà la volta degli ortaggi. A marzo un laboratorio sull'ambiente per conoscere le caratteristiche naturali, geologiche e storiche di Lama Balice. L'ultimo laboratorio ad aprile sarà dedicato all'importanza della frutta nell'alimentazione. Oggi molti bambini hanno una serie di problemi alimentari, difficoltà a gustare tutti i cibi ed è importante che quindi già da bambini si impari a mangiare bene perché attraverso l'alimentazione, ne lo sappiamo bene, si fa un lavoro di prevenzione per una serie di problemi di salute che possono subentrare nel corso del tempo. Poi mangiare è un piacere, mangiare in comunità ancora di più, quindi è giusto che si investa anche sul piano della preparazione e dell'educazione al mangiare sano. Diverse le scuole coinvolte. Il circolo didattico statale Nicola Fornelli, gli istituti comprensivi Don Tonino Bello, Modugno, Rutigliano, Rogadeo, Silos e Cassano Derenzio e l'Istituto Sacro Cuore. Grazie. Grazie. Grazie.